musica 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 buongiorno benvenuti e bentornati sul canale oggi nuovo video video vlog vediamo e qui sono ci do lo specchio ancora mi devo mettere ciascun video perchè mi devo mettere le pose del tiktok ok insomma le mie bocettine ora prima di iniziare i voti mi viene di iscrivervi al mio canale quindi commentate questo video lasciate un bel like e cliccate la campanella se non vedete nel suo video ora rieccovi ora 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 sto 1.10 ma è stato un po' tardi perchè ho deciso di fare un vlog ma perchè oggi oggi mi viene di 20 e niente ora vi faccio vedere il mio outfit qui ecco questo il mio outfit vediamo ho messo anche questo questo in quale in questo almercino in questo scappettone si fa vedere ecco il top ecco il top ecco il top ecco il top è molto molto lunga non siamo già stop questi sono i papilli dopo ora alla settimana e tre giorni molto carini e questo è la parte ora c'ho il mio amico super ventilatore sempre così senza c'ho sempre il mio amico ventilatore però il top ora metto lì dove è il computer perchè devo fare delle cose quindi semmai se riesco a farvi vedere ancora queste qui le scarpe le devo togliere però vediamo vabbè semmai si riesco a più accedere intorno a più tardi dopo buongiorno oggi è un altro giorno ebbene scusatemi se non ho più ripreso niente ieri ma beh non ho ripreso niente 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 beh ho avuto insomma da fare ieri e non ho più ripreso niente quindi poi ho fatto altre cose per tiktok ora ora sono qua sempre a fare sempre cose per tiktok che devo continuare un episodio che me l'hanno stradichisto per metterlo su tiktok e niente comunque ho questa super maglia poi vi faccio vedere il mio outfit che ho messo oggi è molto semplice e vi faccio vedere allora qui ho sempre il mio outfit qui ho fatto questo spacco e poi questo molto semplice come molto semplice come come outfit molto semplice come outfit troppi troppo mi piace moltissimo questo 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 è molto super fashion però ci mettiamo sul letto qui qui è sempre un'unico ventilatore ok ok ora ci siamo messi sul letto che perché sto facendo delle cose per tiktok sto aspettando che siamo quasi arrivati a 1000 manca manca poco 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 manca poco poco fino fino a 1000 quindi ancora 14 ciao vabbè 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 arriviamo a 1000 vi faccio a sapere sono qui e ops sono qui con il mio amico ipad c'è tutto il contrario era tutto il contrario comunque va bene ci vediamo tra poco tra poco e scusatemi ancora se non ho praticamente più ripreso niente perchè infatti ho mangiato tutto quanto poi mi sono messi sul letto ma pochissimo perchè poi dopo insomma sono uscita sono ritornata ieri sera che erano le 8 e mezza ho mangiato e poi più tardi sono andata a letto quindi no sono preso bene se riesco insomma farò vedere questo sino oggi se ci ci riusciamo e questo è quindi ci vedremo dopo in ora ecco scusate l'inizio mi metto qua sono qua anche ora entro nella stanza mio amico super ventilatore devo spegnere la luce e accendo le nostre della cucina va bene va bene si stava staccando la presa ok ben amata ok ho visto che sono ritornate le stories tramite telefono quelle di tiktok infatti ora sto proprio facendo tutte le cose per tiktok che devo mettere un episodio quindi i tops speriamo che non si tornino a levare perchè ovvio questa cosa oggi quindi devo mettere una puntata che ci sarà strauro e devo mettere il volume basso ben male perché se non sarà un while niente vorrei fare delle storie su instagram ma vedete perchè sono stata assente molto forse una settimana quasi e voglio insomma proprio questo ritornare a fare le stories non voglio tornare a fare mi importa più cosa cavolo stavo in centro su ho detto non lo faccio vabbè scusatemi ma non so cosa sto in centro per parte di tiktok comunque ce l'ho qua ce l'ho qua che sto mettendo dentro un episodio ma non voglio vabbè ve lo faccio vedere questo qua quindi stop voglio tornare a mettere cioè comunque fare questi episodio mi ah comunque sto dicendo per fatto di instagram che vorrei ritornare a fare le stories perchè forse una settimana eh più forse una settimana che non ci sto forse dal 15 non sto più su instagram c'è un po' le stories né su facebook né su tiktok né su instagram quindi voglio ritornare insomma a fare le stories comunque ecco questo questo episodio qua devo mettere devo vedere anche questa è la puntata insomma finale lo spengo un attimino perchè quindi voglio parlare un po' come voi qui mi sono messa qui vedete quindi voglio ritornare a fare le stories su instagram perchè sono mancata ma a parte perchè ho avuto un po' dei problemi che ho avuto in questa settimana in questa settimana di M quindi per fare un accetto non le voglio dire sono stata così ho avuto un po' di problemi che ho avuto a spiegare e me lo sono vista brutta ho preso l'antibiotico e mi sta passando quindi non so ci sono ciò che ci saranno anche maschi qui sopra però ho avuto un po' di problemi ve lo dico ho avuto la cistida che va me la sono vista nera 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 poi un po' altri ho avuto un po' di problemi e non mi sembra di no mi ricordo ma ho avuto insomma impegni questa settimana me la sono vista nera diciamo che insomma è passato un pochino però purtroppo non ve l'ho spiegato insomma ieri ma ho avuto un po' di questi problemi e non potevo nemmeno mettermi quindi 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 così comunque poi il mio incontro è santo e niente questo è perciò manca anche su instagram proprio questo per questo fatto che vabbè non ci sentiamo più in parte di che voglio andare a fare delle storie su instagram e su youtube anche su facebook sto guardando delle cose qua vediamo se è fatto queste cose sto facendo queste e ora vi faccio vedere facendo le patate scaldate e niente le patate scaldate ho fatto niente e ci vediamo più tardi perciò ho spivato un po' di problema perché 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 non sono stata sui social quindi e dopo quindi quindi c'è sempre il mio amico ventilatore ora mi vedete qua che sono sul letto perché perché prima era cucina ma ora sono in letto perché sono uscita un attimino e infatti sono tornata a casa stavo mettendo le stories su tiktok ma almeno non c'è la legna questo tipo di telefono non mi non mi mi fa connettermi cioè non fa stare con i suoi dati ma va bene quindi uscivi da molto poco perché vado a fare le altre stories e Grazie a tutti Allora sono tornata, cioè sono tornata a casino Su 10.32 Sto aspettando che comunque prima di parlare Sono uscita, sono tornata poco fa E Aspetta un attimo Ok Sono uscito un attimo Insomma Non ho letto Non di più Ma non sono qui sul letto Perché devo montare questo vlog Perché oggi Adesso mi vede di più luminata Perché Devo montare subito questo vlog Comunque poi Devo mettere online Il domani che è il 21 domani Quindi Vediamo un attimo Dove vedere delle cose su In tutto Si è acconciato vicino allo schermo del computer Su Sto aspettando Ora vi faccio vedere Ora vi faccio vedere Una cosa Ops Il primo traguardo Sto aspettando Sto aspettando Sto aspettando Sto aspettando Faccio vedere Questo è il 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 Uno Il Così Sto ad appena Ho seguito Se pipe Se ura Facciamo Bene domande va bene e questi sono i video che ho messo finora si mette a fuoco il telefono ok, questi sono i video che ho messo vi faccio vedere un video che ha spopolato in tutte le maniere che si tratta di questo guardate le visualizzazioni sono non so se riuscite a vedere ma sono a 52.800 nella visualizzazione guardate che mi piace vi faccio vedere subito oltre è meglio se non si vada oggi a scuola senti un po' un po' caldo sei? no ma guarda ti devi bere questa tisana qua che la faceva mia mamma c'è ci stavo dicendo tutto generalmente sono rimasta colpita proprio di quegli video di quell'episodio che ho generalmente messo comunque domani sicuramente dolce sto dicendo che ovviamente ci sono massimo che ci sono un po' caldo che ho generalmente messo sto aspettando i mille quando arrivino i mille vi faccio sapere che penso che entro questo insomma arriva mille allora spendo e poi dopo lo riprendo perchè poi lo vedo insomma tocco dietro voglio vedere oppse voglio vedere dei miei su facebook e su facebook come su youtube e poi insomma intorno quindi ci vediamo tra poco ma so riecco allora nell'altro torno faccio insomma sapere di quanto siamo arrivati a mille su su tiktok proviamo perchè ho messo delle stories di chiederlo se insomma arrivavamo a mille vediamo questo non c'è ma non lo so vedremo vediamo vediamo in poco no non ancora però va bene e niente ragazze riesco a quel blog so che non è venuto molto molto bene però so che fa un poco schifo non è che ho girato moltissimo di vlog però va bene niente ragazzi vi ringrazio mi vediamo e ci vediamo al prossimo video quindi mi piace un bacio quindi like commentate mettete un like commentate qui sotto attivate la campanella così non perdete nessun video e iscrivetevi al canale quindi e ci vediamo al prossimo video